eh sì sono qui a casa col pigiama in versione sexy sì io sono un genio il genius pop sito da me istituito tra l'altro devo rinnovare fra qualche giorno l'88 agosto stefanofalotico.com ora mi sto già impapirando perdendo e sono come sono annoverate le mie opere sito da aggiornare voi fate gli operai dovete operare lavorativamente schiavizzati del padrone che sono io un uomo che si è elevato a livello concettuale che si prende le patenti non quella b da me acquisita regolarmente legalmente tramite quiz la guida la prima volta mi bocciarono patenti di persona esecrande esecrabile maniaco pervertito certo non è un nano piccolo borghese quindi dice la verità e avevo profetizzato in merito a questo film inizialmente intitolato in un appropriate behavior che viene citato nel commissario falò poi forse vi leggerò ecco domani domani cioè fra un'ora sarà domani sono le 11 in punto essere annunciato questo programma dell'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia quindi mi piace litigare con le persone far sì che le loro idee vengano sgretolate alle persone piace giocare sporco allora diamoci al fan games nella doppia versione di anche la versione americana americane non ci saranno non ci saranno e a toronto ci sarà questo film è così intitolato già mi sto perdendo andiamo di là poveri andecappati non mi fate arrabbiare perché sono più veloce di voi creo siti libri mentre voi così piccolini domani mi dovete alzare presto per svolgere le vostre mansioni quotidiane invece io sono come greta tamberg affetta questa donicciola che sono io quest'uomo affetto poco affettuoso dalla sindrome di asperger della sorella di vostra madre che invece è affetta da frigidità latente e vediamo un po non posso essere fettente strafottente riguardoso e riverente ma fa parte del mio personaggio allora andiamo sul deadline voi che non sapete leggere scrivere digitare non sapete guidare la macchina non sapete praticare sport siete disabili totalmente allora accetta tutto qui c'è un banner poi faremo la pulizia warning ma good morning no good night per voi iniziate una notte lunga interminabile e vediamo un po allora gioccio l'ernap a un village se ne fotte lo sciopero allo sciopero e a schopenhauer preferisco disoccupare me stesso occuparmi di quello che che voglio ammirare la bellezza perché il mondo è pieno di schifezze ci sono delle indecenze ci sono queste monnezze uomini repellenti che poi repellono me da questo gioco di repulsioni nascono le mie rinascono anzi con gli istinti primordiali quelle sedate passioni anche repressi diciamo umore quelle inibizioni dovute ecco allora vediamo un po allora gli strateghi strategists degli awards dei premi hanno detto noi che se that if the strike isn't resolved by meat goes se questo sciopero non sarà risolto entro metà agosto then the odds of stars heading to toronto venus o telluride il festival di telluride chi non lo conosce ecco la sindrome di asperger Ezra dove sta dove ecco 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 denir sta qua vedete questo sembra questo denir un po il boomer sembra balanzone che pensa che io sia un povero coglione invece sono molto più intelligente e veloce di lui in addition there are many stars heading behind the camera with world premieres including Tony Goldwyns, Ezra, Sam, Robert De Niro, Rosburne, Bob Cannaval, Burfermigian, Puppet Goldberg, domestic rags available, Chris Pine ma vediamo su fin tv quando sono stati che dicono se hanno già immesso diciamo il falote che non sarà ammesso diciamo alla normalità di questo tipo di società di minus e ventes di gente lentissima nel cervello nell'uccello è meglio meglio essere qui c'è un altro film Ezra ti do originale meglio perché altrimenti le eiaculazioni precoce io fui talmente precoce che la gente pensò ma va fermato questo qui non è possibile allora non viene ancora accreditato Ezra questo è un film del 2007 produzione Francia Nigeria USA Gran Bretagna Austria allora mettiamo denir in search ricerca anche se siamo su un sito italiano c'è anche il nickname denir uno iscrittosi al 31 marzo del 2006 Robert De Niro tra l'altro dovrebbe uscire no uscirà a giovedì e lo recensirò questo un papel sketch so già cosa dire ah no 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 è già così è stato scritto Ezra con tanto il sottotitolo viaggio di famiglia allora Max Brander Bob Cannaval è un ex sceneggiatore di talk show comici che oltre al suo matrimonio ha gettato alle ortiche anche una carriera sicura e seguendo vanamente il suo sogno di diventare comico di stand up arriva il momento l'avete visto quel film sullo stand up comedia non è andato tanto bene The Comedian, Taylor Redford, poi Bobby Cannaval lì è un po' comico con l'alpaccino di quel film Danny Collins, le canzoni della vita Dan Fogelman ma voi non sapete un cast ma scrivi ubriacato anch'io di me ubriaco per elevare il pensiero poi da mezzo drogato, ubriaco, scrivo capolavori letterari che venderanno poco arriva il momento in cui Max Max, James Woods di Once Upon a Time in America appartenente alla trilogia del tempo che non esiste perché Leone non è che si concepiscono di cose così ci sarebbe questo commissario fallo tre ma non pensavo di arrivare al terzo anche perché non l'ho concluso le cose sono in divenire diamo tempo al tempo arriva il momento in cui Max è costretto a tornare a vivere a casa del padre Stan Rob Giannino è centrico e talentuoso chef fra l'altro in The Comedian c'è anche quello stand-up comedian che è Bill Kristol conosciuto da De Niro su sede di Terapia Palotto L'Analyze Is di Harold Ramsey poi il cameo di Bill Kristol in The Adventures of Rocky and Boo con Death McNeil è centrico e talentuoso chef io sono un ottimo gourmet le mie recensioni sono succulente prelibete mentre voi per scrivere dovete listare e ingegnervi tutta chepa chef che si è dovuto riciclare come portiere anch'io anch'io portiere di notte c'è quel figlio Eliana Cavani Charlotte Rampling che poi di notte con Mickey Rourke Angela Hart insorgono anche i primi problemi con l'ex moglie e con il suo nuovo compagno per la gestione del figlio novenne cioè che a nove anni Ezra affetto da Asperger affetto da Asperger ma comunque io amo molto gli asparagi state attenti a non mangiare troppi perché poi la piscia diventa un po' puzzolenda ecco questa è un po' una caghetta ma io sono un tipo che fa cagare sono un tipo scatologico sono un tipo diciamo falotico Max decide che la soluzione migliore è quella di dire per il bambino e rapire il bambino e portarlo con sé in una camminata attraverso il paese come on and come on and si entra in una caghetta lì c'è come in come in come on come on si in meridione dicono ma fangolo come on poi dovrebbe uscire anche questo film Tensolio da Killers of the Flamble non saranno rimandato questo film per via diciamo lo shopper allora Debo Cusci Jamie Fox come sta? mi è stato ricoverato quello stava male andate in qualche ospedale psichiatrico non si è mai accertato in mezzo di infartueto adesso si è ripreso adesso cammina è fatta la cura abilitativa la riep è un leader che predica centinaia di veterani di guerra mi ricordo questo film il cannone di Navarone attratta la promessa che sotto la sua guida avrà una protezione e uno scopo nella vita cioè quello di scoper finalmente perché è questo a forza di fare i soldati poi stanno lì mettono le canzoni del boss Born in the USA I was born in the USA come on up non come come on up for the friends in tonight poi si fanno le sig diciamo su quelle di Hassler playboy guardate i film di Netflix di Brande Pall ma riguardate la mia vita perché non avete capito un cazzo ma anch'io non ho capito molto circondato dai suoi devoti seguaci tutti militarmente addestretti The Bokush io preferisco il grande le bosche anche Charles Bokosch che comunque Michielu che poi interpretò diciamo Eric Sinansky che altro non è che l'alter ego di Charles ha eretto una fortezza impenetrabile per questo ci ricolleghiamo ai cannoni di Navarone e ha accumulato un impotente un imponente arsenale di armi questo deve essere un masterpiece di Brett Fulman registro di Lincoln Lawyer poi c'è anche Lincoln Hawks che si vesta l'ordi over the top com'è andato a filmare? Amsterdam Amsterdam e Wise Guys ovviamente questo sarà un masterpiece che dice che venire bollito è meglio che bollite lui stesse con quella patata bollita della moglie una patata less anche una faccia da pesce less allora poi hanno interrotto per via dello sciopero le riprese di Zero Day ci sta anche Jesse Plymouth che è quello il capo dell'FBI inizialmente doveva essere il capo poi chiese la revisione dello script Martins Corseggio Tom White il capo dell'FBI fugge Edgar Hoover ci ricolleghiamo forse a quell'opera sottovalutata di Tishwood allora New York anni C4 Vito Genovese io ho diciamo un cugino di secondo grado un cugino di mia madre si chiama Vito Vito Catoz no Vito Genovese non è di Genova è Calabrese no Lucana Basilichese diciamo è Frank Costello questo Vito non è un castello a volte si è separata la moglie e per molto tempo dovete sapere che andò a dormire in un ostello sono boss della Mala Vita Mala Vita male letta lingua poi ci sono le male lingue poi c'è Malena Maddalena Maddalena Malena Monica Bellucci non tanto a Monica Maddalena Granbutena la passione di Cristo inizialmente De Niro fu la prima scelta diciamo di Scorsese anche se aveva un po' il naso lungo della Falotico Cristo secondo le iconografie diceva per interpretare ecco Jesus Christ nell'ultima tentazione ma la vitita l'americana in competizione tra loro il primo ordine è l'assassino per porre fine la sanguinosa guerra fra cosche le cosche mafiose ci sono i tipiloschi lì nei boschi poi c'è Lupus in Fabula che è Max Keddy Costello sopravvive ma viene ferita allora va a rifugiarsi in un castello viene ferito durante l'attendato i cattivi hanno tentato di ammazzarmi attentando quindi alla mia ingolumità ma non giù sono riuscito perché io sono un genius di qualità e la foto li metto nel cespuglio e ci to' dentro quando non lo sanno io compaio al buio e li culo decidendo di ritirarsi dalla vita mafiosa adesso sapete che faccio entrambi i protagonisti sono interpretati da Robert De Niro doppio De Niro madonna che orgasmo a proposito di orgasmo io propenderei per un festival di Venezia a base di filmini adesso ce ne spariamo uno di ritirarsi sì meglio ritirarsi così uno può tirarsene tante senza stare dietro a tutte queste donne ma sono sfigati fanno i seghi mica solo una sì io non fui mai segato mi ritirai così ci fu un ritiro scolastico poi me ne tirai tante me la tiro me la tiro sono i genius la gente mi prendeva il culo prende per culo se stesso perché non sa niente di me la gente sa De Niro produce anche quella serie tv di Abduverne quando ci vedranno quando essi si accorgeranno e si vigono ma chi sono questi qua e forse ci ricolleghiamo a un video gheziano Wise Guys USA 2024 genere biografico regia Barry Leavis with Rodney è buona è buona questa Red Dead rossa di capelli rossa di sera bel tempo si spera rossa dal pelo e quella lì di quel film The Mothman Prophecies con Richard Gere di Mark Pellington che aveva girato anche quel video proposto dell'estate le ragazze di Bruce Springsteen Cosmo Jarvis poi ci sono i terroristi ci sono Tim Robbins di Arlington Road l'inganno Catherine Narducci che aveva già recitato con De Niro la moglie di De Niro la moglie di Joe Pesci di Erish di De Niro in Broxdale scritta da Chet Spalman Terry Chet Spalman Terry Kerry Lazar Belmont Camel io non fumo le Camer no no fumo le Philip Morris Bob Bob De Niro Globerman e James Ciccone questo sarà apparendere Madonna dell'incoroneta Madonna quella che canta canta Frozen il diavolo vi aspetta vi ricordate De Niro Louis Seif Michel Urk in Angel Art by Alan Parker io sono un tipo diciamo la Nicolas Cage di Birdie le aree della libertà per proposito Tim Robbins non confondere con The Social Redemption non sono uno scrittore come Stephen King ma sono Stephen Falotke poi qualcuno è dei fan di me pensiamo a De Niro Ghirenal speriamo di no perché sennò quello poi non si vede qui ci sono gli stor che stanno dappertutto diciamo allora andiamo avanti che cazzo stavo dicendo quello che bisogna dire Ciccone 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 mi ricordo quando giocava a calcio Bologna era andato in serie B e c'era uno Ciccone grande c'è andrà avanti quello e la gente urlava allo stato vai Ciccone vai e c'è la vicina di casa fa dei cognomi cecchini bisogna essere dei cecchini come De Niro in Killing Season by Mark Steven Johnson produttore poi di quel film il grande match Grudge Match con Sylvester Stallone e proprio io che si erano già incontrati su Sandy Kaplan by James Mangold buonanotte video che siano video di cazzete video falotichesco falotichesco state molto attenti perché io da Creosity e poi quando meno ve l'aspettate c'è la supercazzola con scappellamento a destra e non ci capite più niente